Con il cagnolino Smart Stages il tuo bimbo cresce con i suoi tempi. Dov'è il mio piede? Bravissimo! Tre livelli di gioco che si adattano alla sua crescita. Con il bruco canta storie e scopre storie divertenti. E con il robottino ballerino si muove al ritmo. Si balla! Impara a lettere e numeri. Conta e balla! Uno, due, tre! E può registrare la sua voce da Fisher-Price. Acquista 20 euro di giocattoli Fisher-Price e scarica un buono da 5 euro sulla scatola deigiocattoli.it Grazie per la visione!